La partenza della quinta tappa della Tireno Adriatico con Damiano Caruso, siete in tre in pratica nelle prime dieci posizioni della Liquidas, cercherete di inventarvi qualcosa in queste ultime due tappe in cui c'è il terreno? Sì sicuramente è una posizione, è geniale per noi tre, chiaramente la corsa, diciamo a vincere con basso, io sono di supporto a loro e in atta poterna cercheremo già di sistemare la soluzione per far sì che nei prossimi giorni sarà più facile. Per risolvere questa situazione bisognerà far corsa dura già sul sasso tetto oggi o si aspetterà il finale? Ma credo che prima di noi ci sarà qualcun altro che avrà la stessa intenzione, quindi man mano vedremo più, evolversi nella situazione c'è il terreno. Dopo la Tireno Adriatico quale sarà il tuo programma di gare? Ma andiamo a far finirlo con la squadra. Ok, grazie mille, bocca al lupo.